Tre clandestini arrestati. Una donna denunciata per sfruttamento della manodopera clandestina, sequestrata a una fabbrica di confezioni con 25 macchinari e una parte di prodotto finito per un valore complessivo di 300 mila euro. È il bilancio di una vasta operazione condotta dai carabinieri nelle colline dell'Interland. I militari in particolare hanno individuato una piccola fabbrica di confezioni gestita da una cittadina cinese. Il fabbricato, tra l'altro, era protetto da un impianto di videosorveglianza nascosto dentro alcune centraline elettriche. Doveva servire proprio ad evitare i blitz dei carabinieri. Le cose sono andate diversamente. I militari dell'arma, infatti, si sono accorti dell'impianto e, prima di entrare nell'edificio, hanno presidiato anche la porta posteriore. È da qui che, al momento dell'irruzione, hanno tentato di uscire i clandestini cinesi. Sono stati bloccati, trasportati in caserma per accertamenti. Qui si è scoperto che tre erano clandestini, a cui era stato già intimato di lasciare il paese e, pertanto, sono stati arrestati. Altri due sono stati denunciati a piede libero, dal momento che erano già stati perseguiti per il medesimo reato. Uno è stato accompagnato in questura per l'espulsione. Nei confronti della donna, tra l'altro è stato interessante in modo da evitare l'arresto, è scattata una denuncia per sfruttamento di mano d'opera clandestina. La fabbrica, con i 25 macchinari per la produzione di capi d'abbigliamento e un certo quantitativo di prodotti finiti, per un valore complessivo di 300.000 euro, è stata posta sotto sequestro.